Nuova vita per il polmone verde di Ostia. La Giunta di Roma Capitale ha approvato i documenti di fattibilità per la riqualificazione della pineta di Castelfusano. Complessivamente si tratta di tre progetti predisposti dal Dipartimento di Tutela Ambientale per un investimento di oltre un milione di euro. I lavori riguarderanno in particolare la pulizia di quattro aree picnic, la costruzione di tavoli con struttura portante, piano di appoggio, seduta e schienale e la messa in opera di portabiciclette in acciaio zincato a caldo e verniciato, per un investimento complessivo di 250.000 euro. Altri lavori riguardano la rimozione delle recensioni in legno e la posa delle nuove staccionate, per un costo di 200.000 euro. Infine le operazioni più costose, per un valore di circa 670.000 euro, riguardano la riqualificazione e la realizzazione di parti di recensione per il Parco dei Ravennati all'interno della pineta. Sarà costruita la delimitazione necessaria a garantire i livelli di sicurezza minimi per l'area e i suoi utenti e la sostituzione della vecchia recensione qualora sia ammalorata.